Ciao a tutti cari amici e amici del segno dello scorpione, eccoci qui in mia compagnia con il vostro oscopo dal 14 al 20 novembre 2022. Grazie di cuore per esserci sempre, se vi va iscrittivo al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra e condividete sui vostri social questi video. Questi sono messaggi in energia generale che non possono valere per tutti, per quello potete optare per le mie consulti privati e personalizzati. Benissimo, incominciamo con capire quali sono le vostre energie settimanali, cari amici del segno dello scorpione. La prima carta è apatia e demotivazione, carta 82, fate riferimento all'immagine ma anche al numero. Poi, vediamo un arcano maggiore o minore. il re di bastoni, una carta legata all'energia angelica e arcangeliche, il 4 di Michele e infine vediamo l'oracolo delle porte, vediamo se si aprirà una porta durante questa settimana. abbiamo la porta socchiusa però rovesciata, carta 6, per praticità ve la faccio vedere al dritto. Ok, allora, qui secondo me venite da giorni molto intensi da puntista energetico su più fronti, avete dovuto lavorare e faticare parecchio, state portando ancora il peso di responsabilità eccessive sul luogo di lavoro, qualcuno magari vi ha fatto arrabbiare dal puntista proprio di amicizie di partner oppure dal puntista lavorativo o familiare. potreste essere, diciamo, un po' combattuti o aver litigato con questa figura, uomo o donna dei segni di fuoco, arete, l'unio sagittario che abbia l'ascendente in uno di questi segni e tutto questo vi, diciamo, porterà una certa dose di delusione, di demotivazione. diciamo che qualcuno vi ha deluso, quindi vi sentite in questo stato, oppure siete stanchi perché avete lavorato parecchio, magari qualche vostro collega è in malattia, quindi voi siete dovuti rientrare al posto loro, al posto suo, soprattutto se fate un lavoro su turni e questo vi ha reso un po' stanchi, un po' stressati. state anche pensando, però non avete nemmeno le idee, non avete neanche modo di far emergere un qualcosa, ok? perché veramente siete proprio al limite dell'inverosimile. Questo lo dice anche il 4 di Michele, guardate la posizione di questa figura e di questa, sono molto simili, sono accovacciati, pensierosi, qualcuno vi ha, diciamo, leso la vostra dignità, questo è molto importante, è proprio il ledere la vostra dignità. Qui dovete dormire di più, avete maggior bisogno di sonno e dovete anche rilassarvi attraverso le meditazioni, attraverso una vacanza. Faccio una piccola parentesi, da alcuni giorni a questa parte ho introdotto e inaugurato sul mio canale la playlist sulle meditazioni. Trovate già la mia primissima meditazione, molto molto bella, molto rilassante, quindi se vi va, anche prima di andare a dormire, lo potete anche ascoltare più volte al giorno, ok? Per prendere consapevolezza e questo vi rilasserà comunque maggiormente. Dovete assolutamente cercare sollievo da tutte quelle situazioni di stress, tutte quelle ansie, quelle preoccupazioni, siete proprio titubati nel confronto di una situazione o di una persona e questa persona potrebbe essere proprio questo re di bastoni, ok? Quindi avete faticato parecchio per portare anche un certo equilibrio nella vostra vita e avete sprecato tante risorse, tante energie e ovviamente anche il tempo, ok? Ora, cosa può significare questa carta che è la porta socchiusa, arrovesciata? Qui, cari amici e amiche, durante questa settimana dovrete fare attenzione alla vostra impulsività. dovete cercare di non prendere durante questo momento decisioni affrettate perché molto probabilmente alcuni di voi si trovano in un momento delicato della vostra vita e forse magari dovete compiere una scelta di cui però non siete penamente convinti, penamente sicuri anche di eventuali conseguenze derivanti appunto da quella scelta, ok? Qui è importante il fatto di non lasciarvi prendere dall'impazienza perché c'è proprio il rischio di commettere degli errori, degli errori anche abbastanza gravi da puntista relazionale, da puntista anche proprio di gestione economica, finanziaria oppure da puntista lavorativo. Quindi tutte le scelte che dovrete fare da qui a breve devono essere valutate e ponderate, dovete proprio meditare, dovete riflettere perché queste scelte saranno veramente determinanti per il vostro futuro, soprattutto per quanto concerne la vita affettiva, familiare o scelte legate alla sfera professionale, ok? Forse in alcuni momenti non riuscite a capire fino in fondo le persone che vi circondano, c'è un qualcosa che è ancora un po' all'oscuro, in ombra rispetto anche a una persona che vi interessa e quindi questo qualcosa che è un po' in ombra non vi fa fidare completamente appunto delle altre persone. Quindi anche se dovete prendere delle decisioni importanti da puntista proprio anche di familiare o di coppia, forse dovete cercare prima di conoscervi meglio e conoscere anche a fondo la situazione e solo dopo prendere questa decisione, ok? Quindi qua la prudenza è un'ottima consigliera e non dovete assolutamente aver paura di ascoltare i vostri timori. Quindi meglio fermarsi adesso, meglio riflettere prima di commettere comunque errori madornali. Mi raccomando, avete proprio bisogno di riposarvi, di ritrovare comunque la vostra centratura, di rigenerarvi, cercate anche di fare visualizzazione, mindfulness, meditazione e dovete comunque cercare proprio di avere un sonno ristoratore, dovete dormire maggiormente di notte, nel caso fatevi aiutare comunque anche da un esperto del settore, ok? Benissimo cari amici vi aspetto sempre qui sul Tacomè. Ciao a tutti, alla prossima!